Federico Lamontefeltro è vivo, ho voluto con una certa prepotenza, devo dire, al di là di una mostra storica che si vede in Palazzo Ducale, immaginare che egli continui a esercitare il suo potere nel rapporto con l'arte, con l'architettura, con la scultura, con la pittura, come ha fatto con Francesco di Giorgio Martini, come ha fatto con Piero della Francesca, come ha fatto con Berruete, naturalmente non c'è più Federico Lamontefeltro, però ci sono dei segnali in alcune istituzioni, attraverso sindaci, attraverso presidenti di regione, di voler rappresentare la memoria storica e il presente attraverso dei monumenti, ho scelto quindi che fossero sculture, ho voluto che fossero gli scultori che hanno lavorato a noto nella ricostruzione della cattedrale, che oggi è totalmente rinata con pittori e scultori e quindi abbiamo tre, Tullio Cattaneo, Giuseppe Bergomi e Livio Scartella. Ho voluto, anzi è anche quello che indipendentemente da questo gruppo ha fatto l'altare, che è Ducrot, che si segnala per aver fatto alcune sculture per il Vaticano e per Cassino, la scultura di San Benedetto. Ducrot iniziò l'impresa di noto con l'altare, un altare berliniano meraviglioso, che era commissionato dal governo e in particolare dalla commissione di cui ero parte, soprattutto per la scelta degli artisti, perché rinascesse non soltanto l'architettura ma anche la decorazione, la cattedrale di noto. Alle mie spalle ho l'obelisco realizzato, devo dire, per ricordare la violazione dell'embargo in Libia che io feci nel 1998, un episodio importante che indica il tentativo di restituire a un popolo quello che gli è tolto con gli embarghi, con le sanzioni, si può discutere, all'epoca c'era Gheddafi e con lui immaginiamo un monumento da mettere a Tripoli che Ivan Taimer, che aveva già realizzato gli obelischi per Shirak e Mitterrand e Eliseo, ha progettato in questo modo. Questo obelisco è il ricordo, il memoriale della violazione dell'embargo fatta da me soprattutto con alcuni che mi hanno accompagnato come padre Benjamin, come Peter Glydwell, come tipo Martinez e là eravamo a testimoniare una disponibilità verso un popolo oppresso non solo dal suo capo, dal colonnello presidente, capo della rivoluzione Gheddafi, che è finito come ricordatevi, ma anche dagli americani e dai paesi europei che avevano posto l'embargo. Vi sono poi testimonianze importanti di questi artisti che ho ricordato come il monumento Cristina di Belgioioso, voluto a Milano, nella piazza Belgioioso, nel centro di Milano, questa eroina risorgimentale che oggi è al centro della piazza e che viene guardata con l'attenzione e la curiosità per essere anche il primo monumento a una donna realizzato in una città d'Italia. E poi il bellissimo Paganini che si è voluto per il teatro Carlo Felice dal comune di Genova e dalla fondazione Pallavicino, realizzato da Livio Scarpella. Si sente mentre suona il suo violino come se fosse davanti a noi, vibrante e vivo, insieme ad altre testimonianze dell'opera di questo scultore così sensibile. Poi vi sono quattro meravigliose, meravigliose, neo-barocche dell'intendimento, anche se ripetono dei dipinti del Tardo Cinquecento che sono le famose stagioni di Arcimboldo, tutti ricordano il nome Arcimboldo, 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 diceva ritratti con la frutta e la verdura e nella pittura è diventato memorabile, lo stesso Caravaggio l'ha visto negli anni della sua formazione. Ma Bertozzi e Casoni, due più grandi, più sensibili, più straordinari ceramisti del nostro tempo, hanno realizzato quelle quattro stagioni in ceramica, vive, parlanti, plastiche e una quinta stagione fatta invece con i materiali che sono destinati a perdere del nostro tempo, con plastica, gomma, anche lì mettendo insieme un volto, un ritratto attraverso la miscela di cose diverse. E poi ancora in questo percorso non può essere dimenticato uno scultore che arrivò in Italia ai primi anni Ottanta che si chiama Mitorai, che ha avuto molta fortuna e è stato chiamato in molte piazze d'Italia perché invece di essere uno scultore astratto e difficile da intendere per i soggetti ha rappresentato la nostra agia del mondo antico, volti, frammenti, anche in dialogo con i monumenti come i templi ad Agrigento, e a Roma ve ne sono molte. Allora questi frammenti che sembrano opere dell'antichità romana sono rinovellati, ricreati e diventati indicazioni stradali nelle piazze del mondo, molto in Italia e a Parigi e quindi Igor Mitorai ha svolto e svolge una funzione di scultore pubblico. Ancora non si può non ricordare un intelligente erede della pop art che ha immaginato delle sculture luminose e quindi ha rappresentato danzatori, ha rappresentato personaggi del mondo della canzone, ha rappresentato anche regine, principi in filamenti elettrici luminosi che sono nelle piazze d'Italia e sono anche in una presenza in questa mostra, come se si fosse chiesto di rendere luminosa una città da parte del Federico del nostro tempo o da quale sindaco l'avesse pensato, citato nelle sculture di Marco Lodola, quindi Marco Lodola, Ivan Taimer con i suoi uberischi, i frammenti antichi di Igor Mitorai, le sculture di Santi e sostanzialmente di Apostoli e di altre immagini religiose per la casolare di Noto, di Cattaneo, Bergomi, Scarpella e allo stesso modo con un gusto diverso, invece Ducrot che ha fatto l'altare di Noto e poi l'invenzione, la follia in coincidenza con l'Expo di Milano delle ceramiche che rappresentano le stagioni di Arcimboldo. Questi momenti singolari e legati a commissioni precise indicano che è ancora possibile che il potere si rappresenti in immagine e che quel potere sia un potere amico per cui le opere dialogano con i cittadini, non sono come i monumenti di cui parla Musil che servono soltanto per darci l'appuntamento sotto il monumento di Cavour, sotto il monumento di Mazzini, no, si guardano e parlano, è come dire l'idea che attraverso questi artisti Federico sia ancora vivo e il rapporto fra arte e potere sia un rapporto alto, nobile e in dialogo con i cittadini, questo è l'intendimento di questa mostra a Palazzo Lucario di Urbino.